Sbrigatevi ragazzi, voglio tornare a casa prima del tramonto Ehi, potresti andare un po' più piano, per favore? E' solo un piccolo temporale Si trovo! Senti, è qui! Attendo! Intrappolati, è così però? Nessuna paura, l'orientamento è il mio sesto senso Ma stiamo ancora cadendo! Dai, venite! Signore e signori, ecco a voi il centro della Terra È incredibile Giù! La temperatura si sta alzendo Quanto tempo abbiamo? 48 ore, forse anche meno Salite! Io sto davanti Ragazzi, forse è meglio se mi leggete a qualcosa! Da quella parte! Si sta avvicinando Non hai mai visto un dinosauro prima d'ora? Non ti ho la pelle addosso! ?